Musica Misure finanziarie urgenti e straordinarie per fronteggiare la situazione di grave emergenza derivante dagli eccezionali eventi calamitosi verificatesi dal 2 novembre sul territorio regionale. Il Consiglio regionale discute la proposta di legge riguardante un intervento finanziario straordinario per dare sostegno a famiglie e attività economiche extraagricole che hanno subito danni a seguito di quegli eventi e per cui il Consiglio dei Ministri ha riconosciuto lo stato di emergenza il 3 novembre. Il provvedimento è stato illustrato in aula dalla Presidente della Commissione di Sviluppo Economico Ilaria Bugetti che ha evidenziato come si tratta di una legge importantissima, il primo aiuto concreto che arriva dalla regione Toscana alle famiglie e alle imprese che hanno subito danni da recenti eventi alluvionali. Si vanno a stanziare 12 milioni a favore delle imprese e 25 alle famiglie. Una legge molto importante perché con questa legge noi andiamo a dare un primo segno di solidarietà e di vicinanza alle famiglie che sono state duramente colpite dall'alluvione. In questa legge troviamo l'elenco di tutte le province e dei comuni che hanno subito danni e stanziamo la cifra di 37 milioni che saranno suddivisi in circa 12 milioni alle imprese e gli altri restanti alle famiglie con un plafond che va fino a 3.000 euro di riconoscimento per le famiglie. È un primo gesto di solidarietà, di vicinanza, è un primo aiuto che arriva dalla regione Toscana, un atto concreto. Insieme a questo i soldi per le imprese, le piccole e medie imprese, le aree commerciali e quindi con una parte che prevederà l'abbattimento degli ammortamenti e quindi tutta la parte degli investimenti e l'altra parte che sarà dedicata a comprare materiale che è andato deteriorato e quindi per acquisto anche di macchinari che sono stati sciupati. È una piccola cosa a cui speriamo si aggiungeranno presto le risorse del governo perché siamo consapevoli che questo non basterà, però nel frattempo questi 37 milioni di cui appunto una parte, 12 alle imprese e il restante alle famiglie saranno speriamo un piccolo gesto che darà un po' di sollievo a chi ancora sta soffrendo. L'atto passa con voto unanime. Francesco Torselli di Fratelli d'Italia ringrazia tutti coloro che sono stati impegnati in quei giorni ad aiutare le famiglie in difficoltà, dimostrando che la Toscana è una terra che non si arrende e vuole ripartire subito. Sottolinea però quella che a suo avviso costituisce una nota stonata. Che senso ha oggi che tutto il Consiglio regionale vota insieme per portare i ristori che giustamente arrivano alla regione, si sommeranno a quelli che arriveranno e che sono già arrivati dal governo nazionale? Che senso ha dire io chiederò a cittadini uno per uno se hanno ricevuto prima i soldi della Meloni o i miei? Allora chiediamo ai cittadini della Toscana che sono così contenti di vedersi aumentare le tasse di centinaia di euro sotto Natale per pagare la mirabolante sanità toscana. Facciamo un sondaggio, chiediamo se sono contenti di aver ricevuto prima i soldi della Toscana o del governo per l'alluvione ma chiediamogli anche se sono contenti di aver ricevuto un aumento delle tasse da qualche centinaio di euro a qualche migliaia di euro per pagare la sanità toscana. Da Marco Landi, portavoce dell'opposizione, un atto collegato che aveva già fatto presente in aula al presidente Gianni. Merito alla necessità di rivolgersi a quelle persone, a quelle aziende che più hanno avuto disagi e che più hanno avuto danni e che hanno difficoltà anche poi nella compilazione dei vari moduli e quindi ho proposto una task force che parta poi anche dalla operatività della protezione civile e da quello che la regione toscana può concretamente fare per aiutare le persone ad avere i rimborsi perché purtroppo abbiamo vissuto anche nelle precedenti alluvioni tutte queste procedure burocratiche alla fine poi lasciano fuori purtroppo più della metà delle persone che effettivamente hanno bisogno invece di vedere almeno tornare indietro qualcosa di quello che hanno perso sia in termini economici sia in termini rapporto con le banche ma soprattutto anche nei beni materiali che magari servono sia per la loro attività ma anche per tante persone e tante famiglie che hanno vissuto e continuano a vivere disagi importanti e non possiamo far accrescere questi disagi con una burocrazia e una mancata di efficienza nel supportare queste persone ad essere aiutate La manovra finanziaria 2024-2026 è stata il centro dell'ultima seduta dell'anno del Consiglio regionale della Toscana. Tre giorni di aula anche in notturna. La manovra comprende oltre al bilancio del prossimo triennio anche la legge di stabilità e il collegato, la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2024. Venendo alle cifre si tratta di una manovra da 12 miliardi di euro illustrata dal presidente della Commissione Affari Istituzionali Giacomo Bugliani che commenta nello specifico vari settori tra gli altri la sanità ma anche politiche del lavoro, trasporti, politiche agricole. In una cornice che comunque resta una cornice complessa la regione toscana vara un bilancio appunto per 12 milioni di euro che in larga parte è costituito dal fondo sanitario come di consueto che supera i 7 miliardi e mezzo che ha avuto da una parte un incremento in termini di risorse libere ma che dall'altra parte ha visto una riduzione sul punto delle risorse vincolate tant'è che il saldo delle risorse per la sanità in questo caso prevede un incremento di circa 34 milioni di euro. Da registrare però la contrazione dei trasferimenti da parte dello Stato delle risorse collegate all'articolo 20 della legge dell'88 dedicata all'edilizia sanitaria. Ci sono quindi una serie di misure di carattere generale che vengono adottate con questo bilancio e che vedono alcuni settori avere incrementi di risorse e altri invece subire delle contrazioni. Oltre alla sanità che aumenta di circa 34 milioni le risorse a disposizione abbiamo anche settori come le politiche del lavoro, le politiche sociali che vedono un incremento di risorse rispettivamente di 55 e di 80 milioni. Anche il settore dei trasporti ha un incremento di quasi 40 milioni di euro così come si registra un incremento di 23 milioni di euro per il settore delle politiche agricole. Chiaramente ci sono altri contesti come ad esempio quelli della difesa del suolo, della tutela del territorio che subiscono invece una contrazione di risorse abbastanza imponente ma quel che è certo è che comunque la manovra di bilancio sarà nel corso dell'annualità 2024 oggetto di una serie di interventi attraverso una serie di variazioni che potranno andare anche a ridistribuire la disponibilità di risorse nei singoli settori e nelle singole missioni. La sanità e l'aumento dell'IRPEF previsto per far fronte alla mancanza di risorse, il tema sul quale è stata incentrata la discussione. Noi eravamo di fronte a un bivio, il bivio di fronte a un governo che a differenza dell'anno scorso di quello che accade con il governo Draghi non ha riconosciuto i cosiddetti payback cioè il surplus per l'acquisto di dispositivi medici. L'anno scorso furono 420 milioni che arrivarono attraverso un decreto ministeriale che quest'anno ormai a 10 giorni dalla fine dell'anno non c'è stato eppure avremmo avuto una cifra di questo genere come credito della regione toscana. Non essendoci questo siamo stati costretti a ricorrere a una sorta di una tantum con quello che è un addizionale IRPEF, del resto noi eravamo fra i più bassi dell'IRPEF e conseguentemente 200 milioni che saranno destinati 190 a quello che è la copertura delle spese del sistema sanitario pubblico della Toscana e 10 milioni a quello che è l'inalzarsi del contributo alle famiglie che hanno vissuto danni dall'alluvione. L'aumento dell'IRPEF previsto creerà un gettito di circa 200 milioni di euro. I numeri dicono che gli incrementi riguarderanno i redditi da 28 mila a 50 mila euro, si passa dall'1,68% al 3,32%. Per i redditi oltre 50 mila euro l'aumento va dall'1,73% attuali al 3,33%. Il dibattito si incentra sul payback in ambito sanitario e l'aumento dell'IRPEF. Le opposizioni ribadiscono il proprio no all'aumento delle tasse. Non era assolutamente il momento di aumentare le tasse ai cittadini toscani dopo tutto il periodo pandemico, poi crisi energetica e soprattutto l'alluvione che ancora oggi stiamo attraversando in Toscana. Si vuol far passare il messaggio che si tassano soltanto i redditi sopra 28 mila euro. In verità i redditi sopra 28 mila euro lordi sono tantissimi in Toscana e soprattutto pensate a quelle famiglie monoreddito, magari con uno, due, tre figli a carico, dove una differenza di importo 3, 4, 500 euro alla fine dell'anno sono una quantità corposa di soldi che avrebbero sicuramente destinato ad altro. Noi non siamo d'accordo sull'aumento delle tasse. Il presidente Gianni aveva già aumentato il bollo auto nel 2022 dicendoci che cosa? Che c'era un problema in sanità. Quindi i problemi in sanità erano conosciuti da tempo, si potevano valutare altre strade come quella che noi sosteniamo da tempo, il problema sanitario. La governance non funziona, la sanità in Toscana non funziona perché vedete si fa passare il messaggio che non si vogliono tagliare servizi, non si vuole tagliare il sistema sanitario, ma il sistema sanitario toscano è al collasso, le liste d'attesa sono sempre più lunghe, non si sono verificate nuove assunzioni se non quelle degli amministrativi di un certo tipo, non si parla di nuovi medici, non si parla di nuovi infermieri. Pensate che all'ospedale di Cisanello sono sei le sale operatorie che sono state chiuse nell'ultimo mese per una spending review. Quindi questo non vuol dire andare a migliorare la sanità toscana. Dobbiamo ammettere che il fallimento della riforma del 2015 è in crisi. Dobbiamo ripartire da lì, farci domande serie e concrete su quello che dovrà essere nei prossimi anni la sanità toscana, che non può andare avanti così e non possiamo continuare mettendo in mano le tasche dei cittadini toscani. Erano anni che non vedevamo più la politica utilizzare il metodo se ho un debito per colpa mia me lo faccio pagare con le tasse dei cittadini. È la roba che apparteneva a un'altra epoca politica. Quindi speravamo fino all'ultimo di vedere un Presidente Gianni che per raccimolare quei 200 milioni di euro che la sanità toscana perde non quest'anno, attenzione, perché ho sentito qualcuno parlare di deficit di 200 milioni quest'anno. È un deficit strutturale, tant'è che l'aumento delle tasse che ha previsto Eugenio Gianni per sanare questo buco non è un aumento delle tasse per un anno, è un aumento delle tasse che sarà da quest'anno in avanti. Quindi purtroppo speravamo di vedere altro, speravamo di vedere un Governatore che per fare fronte a questi 200 milioni mancanti si fosse inventato un piano di riorganizzazione, di razionalizzazione, di revisione delle spese della sanità. Non ha fatto la cosa più semplice, passatemi il termine, ma anche più vecchia che la politica ci aveva abituato negli anni a dietro. Questi 400 milioni di buco che mancano dal bilancio della sanità credo che dovrebbero essere evidenziati in bilancio, non ci risulta che sia stato fatto e mi domando come sia possibile, perché chiunque legga il bilancio, ammesso che abbia tempo di farlo e voglia, non legge da nessuna parte che mancano 400 milioni, si legge soltanto sui giornali. Quindi c'è qualcosa che non torna. Se c'è veramente un credito anche di difficile esigibilità andrebbe indicato in bilancio e messo da un fondo di svalutazione di crediti dall'altra. Io immagino, non si capisce come mai invece non è stato fatto. No all'aumento delle tasse all'interno della maggioranza anche da Italia Viva. Ferma la contrarietà all'aumento dell'addizionale IRPEF. Noi teniamo ferma la nostra posizione, siamo fortemente contrari all'aumento dell'addizionale IRPEF. Ancora di più dopo che abbiamo visto gli atti. Noi ieri chiedevamo che potessero essere non presentati, oggi chiediamo di poterlo ritirare. È veramente irrazionale, inico e ingiusto il fatto che le persone che guadagnano da 28 mila euro a 50 mila euro debbano avere un incremento percentuale maggiore rispetto a quelle che guadagnano più di 50 mila euro. Io mi auguro sia un errore, ma siccome non è un errore, perché le carte cantano, sono scritti, dico fermiamoci. Io credo che ci sia tempo per approvare il bilancio anche la prossima settimana. Fermiamoci, ritiriamo questo atto, mettiamoci a sedere e poi lavoriamo insieme per come trovare queste risorse. Io sono convinto che si possa riscuotere un credito nei prossimi quattro mesi. È quello che abbiamo come Toscana nei confronti delle case farmaceutiche. Il governo Meloni non sta assumendosi la propria responsabilità, non sta garantendo quel credito, però è ingiusto il fatto che un medico che sotto la pandemia era un eroe, le case farmaceutiche in quel momento si arricchivano, le persone morivano e oggi a quel medico te tu vai a chiedere 1200 euro in più all'anno, in media, qualcuno anche di più, perché già ne pagano 1600, perché vi raccontano quelli che sono gli aumenti, ma non vi dicono quanto già si paga, saremmo la regione d'Italia che paga il massimo di addizionale IRPEF e in questi casi viene raddoppiata, e viene raddoppiata perfino a coloro che guadagnano 1400 euro al mese, perché ti raccontano l'incremento ma non ti dicono il fatto che già la pagano. E quindi un insegnante, un medico, un operaio, un infermiere pagheranno il doppio come addizionale. Il capogruppo del PD spiega come si tratti di un passaggio obbligato per tutelare la sanità pubblica d'eccellenza nella regione, aggiungendo di come la soluzione sia stata ponderata a lungo. Abbiamo ponderato a lungo e che certo non facciamo a cuore leggero, perché tutti quanti credo avrebbero preferito non gravare sui contribuenti toscani, anche se noi abbiamo scelto di chiedere una sorta di contributo di solidarietà alle fasce più alte o medio-alte. Vale a dire, chi più ha gli chiediamo uno sforzo per far sì che la sanità toscana, che è una sanità considerata di eccellenza anche dalle indagini ministeriali, possa eventualmente migliorare e non sicuramente regredire. Di fronte ad un governo che da una parte in percentuale ha tagliato il fondo per sostenere la sanità pubblica, dall'altra non ci riconosce il Payback, che l'anno scorso era di circa 400 milioni e che è previsto da una legge dello Stato. Noi avevamo poche altre scelte, poteva essere quella di mettere il ticket sulle ricette, quello di aumentare i medicinali. Sarebbe stata una tassa indiretta nei confronti di chi ha bisogno di curarsi perché ha meno salute. Potremmo rinviare questa decisione, come ha detto qualcuno, e fare la battaglia perché il governo ce la riconosca, ma se poi il governo non la riconosce, passata la fine dell'anno, noi saremmo costretti ad andare in piano di rientro e quindi automaticamente le aliquote dell'IRPEF andrebbero al massimo non soltanto per le fasce più alte come abbiamo previsto noi, cioè non prevedendo nessun aumento per chi fa una dichiarazione dei redditi da 0 a 28 mila euro, ma sarebbero aumentate per tutti. In più aumenterebbe l'IRAP a carico delle aziende. Quindi questo noi non ce lo possiamo permettere. L'aumento dell'IRPEF arriva attraverso un maxiemendamento, misura necessaria secondo il Presidente della Regione Eugenio Gianni, considerando l'operato del governo. Ma direi che il maxiemendamento sempre più si sta profilando come una misura necessaria di fronte a questa mancanza da parte del governo di riconoscere quei 420 milioni che sono un credito. Fossimo fra privati noi avremmo pignorato i beni. Non può accadere che una Regione pignori i beni dello Stato, ma la situazione che si sta creando è questa. Manca soldi si aumenta le tasse, mi sembra una cosa abbastanza banale, scontata, che pensiamo tra l'altro intervenga in un momento drammatico per parte dei toscani. Ci sono 30 mila famiglie e imprese che sono state colpite da un evento drammatico, quello dell'inizio di novembre. La risposta che gli si dà per ora è che gli si alzano le tasse. Decenni che non si vedeva un aumento delle tasse in questa misura, 200 milioni, che andranno ad incidere su una fascia reddito di persone che poi prendono circa 1.500 euro il mese. Quindi non una operazione a cuor leggero che questa maggioranza ha dovuto fare dopo che per tanti anni il bilancio della sanità non versa ovviamente in buona salute. Sì del Partito Democratico al maxi emendamento. Italia Viva non partecipa al voto. Il centrodestra e il Movimento 5 Stelle si esprimono in maniera contraria. Per protesta i consiglieri di centrodestra srotolano uno striscione in aula prima del voto. Al termine il Presidente Gianni traccia il bilancio dei tre giorni di lavoro del Consiglio. Quello che chiaramente ormai il governo vuol fare è quello di indurre, tagliando, impedendo di avere in questo caso 420 milioni di payback che ci spettano per legge e che l'anno scorso un diverso governo con il Ministro Speranza avevamo avuto. Il tentativo è chiaramente di indurre, restringendo le spese alla sanità, di tagliare e spostare sulla sanità privata quelle che sono le indicazioni. Noi a questo ci ribelliamo. L'abbiamo dovuto fare proprio all'ultimo momento perché prima ci avevano fatto in qualche modo pensare che una situazione come quella della sanità toscana era un vanto per la sanità italiana e che quindi sarebbe stato rimediato a queste cifre, a queste risorse. Poi quando è emerso che tutto questo non avveniva allora abbiamo dovuto prendere la posizione di incrementare quello che è l'addizionale ILPEF. Ma è un unatantum. Intanto quest'anno ci riorganizzeremo, cercheremo di limare, aggiustare e cercare di capire dove poter svolgere gli stessi servizi con meno spesa e al punto in cui arriveremo il prossimo anno nuovamente ci riporteremo a livelli più bassi di imposta ILPEF.